Enrico Montesano? Non è la performance ma sono di tre minuti dopo che mi fanno dire che è insopportabile. Flavio Insinna. Sono sicuro che lui tratta una merce rarissima, autoironia. Beati coloro che sanno ridere di loro stessi disse un poeta. Federico Russo? Si tale quale a quello della famiglia Adams.